L'Unisagno ha ricordato Enza Cappabianca, la studentessa sannita deceduta lo scorso agosto in un incidente stradale avvenuto in Svizzera. Il giorno scelto non è casuale perché oggi si celebra la Festa dell'Europa, di cui Enza, nel fiore della sua età e con i suoi sogni, rappresentava una testimonianza del percorso di integrazione e di formazione di una coscienza comune europea. Proprio per questo Enza aveva deciso di visitare il Parlamento europeo di Strasburgo e aveva raccontato ai suoi amici di aver vissuto un'esperienza straordinaria. Quel viaggio si è drammaticamente interrotto sulla strada del ritorno in Italia. Il suo impegno e la sua passione per un'Europa unita viene ricordato nelle parole di chi l'ha conosciuta e di chi ha avuto la fortuna di viverla quotidianamente, come la sorella Paola. Sono onorata di essere qui oggi perché il motivo principale per cui sono qui è per ricordare mia sorella Enza. Poi, come ho già detto molte volte in altre occasioni, vorrei lasciare un invito e dire a tutti i ragazzi, i miei coetani e i nonni, di non smettere di credere nei propri sogni, di continuare a coltivare le proprie passioni, come faceva mia sorella. All'evento che si è svolto nell'aula Cerdiello del Plesso di Via delle Puglie ha partecipato anche Carlo Mazzone, docente dell'Istituto Industriale Luca Redi di Benevento e da sempre mentore della giovane studentessa. Un momento apparentemente triste, però come ho detto anche in altre occasioni, Enza che è stato un riferimento, un'ambasciatrice non solo dell'Estam, quindi della tecnologia, ma proprio dell'impegno scolastico nella società e quindi è un evento che deve dare speranza per il futuro perché lei continua a stare tra di noi, ha tracciato una scia come ho detto e noi cercheremo di seguirla. È un momento triste ma è anche un momento che ci invita tutti quanti a guardare al futuro.